guarda lì guarda questi due bestioni basta col gelato basta adesso vi do i biscottini va bene ok così almeno vi calmate allora quella che è in mezzo è shiva quello davanti e suo marito loki e quello più sotto è il nonno staschi e sa per fare 13 anni